Ancora pochi giorni per mettere insieme tutto quello che manca per l'iscrizione del Teramo al prossimo campionato di Lega Pro. Nelle ultime ore alcuni esponenti dell'imprenditoria abruzzese legati al mondo del calcio hanno dato il proprio contributo per il club bianco-rosso. È evidente che questi sono sostegni che tuttavia non bastano per completare l'Eater. Lo scoglio da superare è quello della comprensione di cosa farà o meno l'ex presidente e socio di minoranza Franco Iachini che domenica ha assicurato di non voler procedere come è accaduto nelle stagioni passate e a garantire la fideiussione indispensabile per l'ok alla Lega. Manca una settimana la scadenza fissata per il 22 giugno. Mercoledì prossimo chi è dentro è dentro, chi non lo è sarà depennato dalla lista delle compagini di terza serie. Campitelli, Brocco e Di Giovanni pare abbiano contribuito a sostenere il diavolo che, novità nelle ultime ore, potrebbe avere l'interessamento dell'ex presidente della Carrarese, Raffaele Tartaglia. Addirittura pare che sia proprio in città per valutare la posizione del club in questo delicato frangente. Tartaglia in passato è stato socio di Buffon all'interno del sodalizio marmifero prima della rottura tra i due. Con ogni probabilità cercherà anche di approfondire la questione non solo squadra ma anche stadio. Peraltro in quella Carrarese c'era anche Sandro Federico come direttore sportivo. Federico che però sembra aver preso la strada di Andrea dove porterà con sé Mirko Cudini che dopo l'addio al Campobasso ripartirà dalla Puglia per una nuova complessa avventura. Nel frattempo a Teramo l'amministratore unico Massimo Chierchi e Davide Ciaccia continuano a cercare di mettere insieme quello che occorre con l'obiettivo di cominciare la prossima settimana con delle certezze visto che poi mancheranno solo poche ore. Il dossier sul tavolo dei due è complesso perché il fine settimana inevitabilmente rallenta le operazioni. È davvero una corsa contro il tempo. Si spera che anche il Tribunale di Roma che però ha detto di voler vedere prima risultati concreti possa provare a sbloccare parte delle risorse una volta che il più sarà fatto. Il problema è che quel più è davvero tanto. Impossibile dire adesso quanto ottimismo si respiri in casa Teramo perché si lavora. Ventre a terra certi di potercela fare. D'altronde tra sette giorni ci sarà il gong e a quel punto non ci saranno più prove d'appello.